Bollier ha già in tasca il biglietto dell'aereo con cui scapperà fra due giorni aumentando il numero dei transfughi argentini che si chiamarono Guaita, Scotelli, Cerioni e Bovio. Bloccato da Maestrelli e Treret non combina nulla. Quanto a Formentin si indugia in questa posizione forse perché avrà scorto la macchina da presa. Ventiquattresimo minuto, calcio d'angolo, rovesciata dei Tontodonati, gol e uno. Il secondo ha un prologo movimentato. Bacci, pesaola, Tontodonati, palo e adesso Merlin studia il modo di riportare sotto la minaccia. L'altro lato, secca, testa dei Tontodonati, gol e due. Il terzo è a portata di piede all'inizio della ripresa. Merlin, Tontodonati, Merlin. Malala ha tirato in pieno sul portiere e l'occasione è sfumata. Le approfitta il Genova per partire al contraattacco. Risorti blocca il traversone di Magni. E adesso terzo gol giallorosso. Merlin, secca, a Gualazzi non resta che rassegnarsi. Lui non ne ha proprio conto. Lui non ne ha proprio conto.